Buongiorno a tutti, ben ritrovati carissimi telespettatori di FanoTV, questa è la rassegna stampa delle sette e mezzo del mattino, naturalmente per chi ci segue in diretta perché poi come sempre ricordiamo abbiamo anche le repliche, non solo quelle che vanno in televisione ma anche quelle che si possono vedere su internet all'indirizzo occhialanotizia.it, il santo di oggi, vediamolo subito, oggi è San Germano di Capua, è stato vescovo, un vescovo importante, il sole sorto alle 6.40 e tramonterà alle 17.03, che tempo farà oggi? Lo vediamo con l'aiuto della grafica e delle previsioni della protezione civile delle marche, oggi avremo un cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti sui rilievi nel settore meridionale della regione con schiarite nel pomeriggio, sempre al mattino avremo una giornata di rovescio temporale nelle zone interne con i fenomeni che avranno in maggiore intensità appunto nel sud della regione, nella parte montana, poi il pomeriggio invece questi fenomeni andranno ad esaurirsi, le temperature sono in lieve aumento i venti di brezza tesa da nord, orientali, con raffiche fino a moderati lungo la costa, il mare sarà molto mosso. Per domani, ultimo giorno del mese di ottobre, avremo un cielo sereno poco nuvoloso, ma attenzione le foschie, locali banchi di nebbia sul far della sera, inizialmente il mare sarà molto mosso con moto ondoso, poi in diminuzione fino a poco mosso, le temperature sono in diminuzione in particolare nei valori minimi. Per il primo di novembre, festa di tutti i santi, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, le temperature sono in aumento, i venti di brezza tesa, il mare sarà poco mosso, ma anche qui attenzione all'umidità, le foschie, i locali banchi di nebbia soprattutto nelle ore più fredde della giornata. Poi però la fine della settimana vedrà l'inizio di un periodo di tempo stabile, quello che andiamo dicendo ormai da un po' di giorni. Allora, cominciamo adesso a leggere invece i giornali. Naturalmente il resto del Carlino anche oggi dedica due pagine, quelle di Pesero, poi ci sono quelle sportive all'interno, a Valentino Rossi, perché c'è attesa, continuano le discussioni su quello che è accaduto domenica scorsa. Poi però c'è anche la piaga dei furti. C'è la piaga dei furti perché? Perché come vedremo tra poco sulla pagina del resto del Carlino di Fano è stata un'altra nottata di furti nella città di Fano. Notte di spaccate, titola così la pagina fanese del resto del Carlino. Fano adesso trema. Assalti ad un distributore di Sant'Orso e al circolo Arci di tombaccia di Fano. Il titolare della Kuwait, che è il distributore, dice mi hanno portato via 13 mila euro di sigarette e le fotografie, vedete un vetro della finestra spaccato, questo qui al circolo Arci, è rotto il vetro con la base di pietra di questo cartello. La base di pietra, eccola qui, l'hanno usata per rompere il vetro e poi entrare dentro. Insomma, una notte di spaccate, rubare tabacchi, slot machine, i ladri che continuano senza sosta a compiere questi furti nel notturni in giro per gli esercizi commerciali. E di questo si parla nel giornale, il resto del Carlino, ma anche gli altri quotidiani. A Pesaro invece ci arriva uno yacht, qui evidentemente non hanno problemi di soldi, quelli che hanno ordinato questo super yacht, l'Alexander V, dalle isole Cayman, lungo 40 metri, oltre 40 metri. E questo va visto come un primo segnale positivo per il nuovo cantiere Rossini, che ha comunque lavori in vista e in programma. Stamattina alle 10 farà questo suo ingresso al porto, questo Alexander V, questo super yacht che batte bandiera delle isole Cayman. La proprietà è della Olympic Navigation NTD, che ha la sede nelle isole vergini britanniche, e questo arrivo dell'imbarcazione che era ormeggiata fino a ieri nel porto Montenegrino di TITAV, ed è un primo segnale, come dicevamo, positivo per il cantiere. Un bilancio difficile, torniamo a Fano, un bilancio difficile è quello della fondazione Cassa degli Sparmi di Fano, che è presieduta da Fabio Tombari, 800 mila euro in meno, più attenzione invece ai poveri, basta promesse, dice sulla Yort vogliamo dei segnali concreti. È un bilancio previsionale in ribasso di 800 mila euro, quello che è stato comunicato dal Presidente della fondazione Fabio Tombari. Per il 2016 il Consiglio di Amministrazione ha dovuto infatti redigere un documento programmatico previsionale dalle stime ridotte rispetto a quelle ipotizzate in un primo momento nel programma pluriennale che andava dal 2014 a il 2016, che già tra l'altro era molto ridotto rispetto agli anni precedenti. Tutti in campo per l'Istituto Battisti, Carloni, un istituto che si è distinto per la qualità didattica, la vicenda andrà in Consiglio regionale con una interrogazione, l'Associazione dei Presidi, anche Rossini spinge, non dimentichiamo la necessità del territorio. Dunque si tratta di salvare l'autonomia di questo istituto storico cittadino. L'altra pagina del resto del Carlino, i baci patteggia Mancani No, patteggerà 4 anni di carcere il 34enne di Orciano che nel febbraio scorso aveva tagliato i freni dell'auto di una 57enne. È una storia che vi abbiamo raccontato, che riguarda qualche anno fa e di cui potrete leggere le notizie insomma sul giornale di oggi. Andiamo sull'altra pagina, dicevamo di Valentino Rossi, Tavuglia, il sindaco invita i colleghi a vedere la gara sul maxischermo che avrà installato appunto nella città che ospita il fan club ufficiale. Tavuglia naturalmente sarà utilizzato questo maxischermo per proiezioni diurne. E quindi domenica 8 si attende un pienone, per ora c'è già nel sito del Comune, cioè il rischio che il Paese di Valentino insomma sia preso d'assalto. Allora adesso invece andiamo sul Corriere Adriatico, vanno all'asta 26 beni per rientrare nel patto di stabilità del Comune di Fano, l'incanto previsto è il 13 di novembre, nell'elenco ci sono negozi, terreni e fabbricati rurali. Quindi se avete un po' di soldi da spendere sappiate che il Comune di Fano mette all'asta 26 beni e di soldi insomma ce ne sono, c'è chi ce li ha, c'è chi ce li ha, ce li ha sotto il materasso ma ce li ha. Quindi insomma tirateli fuori, forza, facciamo girare questa economia e cerchiamo di ripartire. L'immobile di maggior valore è un podere che si trova a Serrungarina. All'ospedale un milione vincolato a Fano, avvertimento di tombari alla Capalbo. La fondazione bancaria rinuncia nel 2016 alla grande opera. Erogazione ridotta del 42%, abbiamo preferito confermare le somme per welfare, sanità e istruzione. Ecco l'albero di Natale di quest'anno in piazza 20 settembre, guardate, per Natale un albero dipinto di 12 metri, le festività saranno più lunghe e animate. Il programma della Proloco organizzato con la Giunta e con i commercianti. Trasferta vietata ai tifosi Granata, il sindaco parla di una scelta punitiva, il comune critica il prefetto di Teramo. Spaccata all'arci per rubare slot machine, il colpo messo a segno in un minuto e mezzo, il titolare si sveglia e dà l'allarme. Azione analoga due anni fa. Un bar svaliggiato, fuggono nei campi con un sacco, anzi con dei sacchi pieni di sigarette. Cocaina, l'abitazione dell'amico era diventata il luogo dello spaccio. È stato arrestato un albanese a Fano che occupava la casa di un connazionale. Nel domicilio, che è in zona trave, un sospetto via vai di persone ad ogni ora del giorno della notte. sono stati sequestrati droga e denaro. Fora le gomme di sei auto in sosta nell'area riservata. È stato quindi scoperto e denunciato questo fanese che non voleva estranei in quel parcheggio, dunque se l'era un po' fatto a mo' di parcheggio privato. Non accettava sostanzialmente che altri parcheggiassero nell'area di sosta condominiale nei pressi del canale Albani, dove lui risiede e ha quindi pensato di vendicarsi forando gli pneumatici delle loro auto. Gli investigatori del commissario di Fano, guidati dal vicequestore Stefano Seretti, sono però riusciti a scoprirlo denunciandolo per danneggiamento. Adesso, sempre dalla pagina del Corriere, contro il rischio idrogeologico, 400 mila euro. La giunta di Piaggia ha approvato i lavori di ripristino del movimento franoso che si trova a ridosso del centro abitato. Il comune è rientrato nel programma Sblocca Italia con contributi per realtà al di sotto di 5 mila abitanti. Poi c'è la politica, naturalmente un'altra notizia da Urciano che riguarda la raccolta differenziata. La pagina di Pesaro invece, questa è una regione meravigliosa, tour nelle aziende per il ministro del West Bengala con Ceriscioli e Bora, prove di partnership produttiva. Nel pomeriggio la visita alle più importanti aziende pesaresi come Scavolini, BS, Cosmob e IFI. Si fanno strada colpi di mazza, guardate come hanno ridotto questa macchinetta, questa slot machine, si fanno strada colpi di mazza, razzia Latamoyle, tre banditi in azione sfondano, qui siamo a Pesaro, sfondano una parete, svuotano due slot dal bar, hanno asportato anche gratti e vinci, sigarette, liquori e bottiglie di vino. Insomma siamo presi d'assalto, un po' la sensazione di essere presi d'assalto, insomma, ormai io penso che chi abbia un esercizio pubblico insomma viva davvero con l'angoscia. Apriamo adesso la pagina del messaggero e qui torniamo alla cartina che vi abbiamo mostrato anche ieri nella segna stampa, allargandola a pieno schermo, queste regioni che dovrebbero cambiare, c'è questo progetto, questo disegno del Partito Democratico, però i pesaresi non vogliono andare in Emilia-Romagna, la Camera di Commercio, con Commercio, la CNA, è una proposta, dicono, insensata, non ci convince, è meglio l'idea di un'Italia di mezzo con le marche unite alla Toscana e all'Umbria. Vabbè, qui si può parlare di tutto, adesso non so se è una cosa fattibile oppure no, quanto ci sia di realistico oppure no. Comunque, questo è il progetto, vedete, ve la rifacciamo rivedere. Ecco, noi siamo sempre qui e dunque andiamo a finire con questa Emilia-Romagna che si allunga verso sud e quindi noi diventeremo tutti romagnoli. Non credo che sia giusto la reazione dopo aver sparato per far fuggire i ladri, ricorderete Cesaretti di 74 anni, che è stato denunciato per aver esploso colpi di carabina per sventare questo furto. La figlia dice, noi non siamo tranquilli, oggi chiedo io, io, il porto d'armi. Come dire, adesso ci penso io. Fanno in trasferta senza tifosi, anche il sindaco Massimo Seri si arrabbia e si dice perplesso, la gara non ha rischi, questa è una decisione assolutamente punitiva. Poi le festività, tutti i santi e la commemorazione dei defunti del 2 di novembre, la passeremo con un cielo sereno, secondo le previsioni del meteorologo. Dicevamo, capitali saimen, cauto saipem, cauto ottimismo per la sede fanese. Segnali incoraggianti, infatti, per lo stabilimento che occupa 1200 professionisti di alto profilo. Entriamo nelle pagine interne, quella delle Marche, aeroporto, il ministero potrebbe, l'aeroporto delle Marche, quello che si trova a Falconara, il ministero potrebbe annullare l'accordo con Novaport. Riunione Fiume a Roma, cresce l'ipotesi della gara pubblica, il peso di Rimini potrebbe giocare un ruolo nell'operazione. Poi, non siamo tranquilli, questa è un'ingiustizia. Roberta, dopo la denuncia ricevuta dal padre, che ha sparato per sventare un furto, oggi chiedo io al portodarmi cosa dovevo fare, cosa dovevamo fare, dice lei, come avremmo potuto difenderci. La polizia certamente fa il suo dovere, ma la legge, questa legge, è fatta male. Poi, svaliggiato un tabacchi, colpo da 15 mila euro a Santa Maria dell'Arzilla, guardate dove sono passate, addirittura questa volta dal tetto, vedete? E sotto, oltre 100 donne l'anno scorso si sono rivolte al centro antiviolenza di Pesaro. Riparte il cantiere, ma si ferma al palo la darsena turistica al porto di Pesaro e poi sulle macro regioni, dicevamo, l'idea di far passare la provincia di Pesaro sotto Bologna, le marche, dicono, restino unite, lo dicono la Camera di Commercio, la Commercio, la CNA, tutti contrari a questa idea. Poi l'ultima pagina, quella di Fano, del messaggero, ride notturni nei bar per slot e sigarette, mentre la fondazione salva il welfare malgrado la crisi, sono stati confermati 320 mila euro di fondi per il sociale, mentre al poderino parte la rivoluzione della viabilità. Ecco, queste sono le notizie che sul finale, insomma, siamo riusciti comunque a darvi. Noi ci rivediamo stasera alle 20.30 per quanto riguarda il telegiornale. Vi dicevo di questa notizia importante, questa è un iPhone, da oggi questa è la notizia di qualche minuto fa, prima di entrare in redazione ho dato un'occhiata alla casella di posta elettronica, è arrivata la comunicazione ufficiale, l'abbiamo già scaricata, l'abbiamo già provata. Finalmente, anche per chi ha un iPhone, quindi per chi ha Apple, non solo iPhone, insomma tutto quello che è il mondo Apple, qualsiasi dispositivo, è disponibile da questo momento, da questa mattina, l'applicazione ufficiale di occhio alla notizia. Quindi andate nell'Apple Store e vedete se vi va di scaricare l'applicazione ufficiale di occhio alla notizia. Naturalmente è gratuita e lì con questa applicazione nel telefonino sarete aggiornati in tempo reale. Davvero, è una bella cosa, finalmente ci siamo riusciti dopo tanto tempo e anche sui dispositivi Apple, e quindi cominciate a scaricare. Forza e coraggio, grazie per averci seguito e arrivederci questa sera.